Le serate dal 2 al 4 agosto 2018 I pazienti si sono inizialmente opposti al rientro in struttura per poi cedere alle richieste della polizia, che ha concesso loro di tornare alla residenza a bordo di un taxi La passione per la musica non è a età, scherza così la portavoce della polizia Merle Neufeld che si è occupata del caso fuga degli anziani dall'ospizio che per una notte, sono tornati giovani, ed hanno avuto la possibilità di assistere al concerto più pazzo del momento Poto Credits Facebook